Questa ultima azione dell'Umana Reier con Ariel Figlioi marcato da Dustin Ogg 13, 12, chiede l'accelerazione anche il presidente Brugnano Poi Bramos da 3 punti, la tripla! Le vai col Bramos! Meno di 7 secondi, la palla nelle mani, il treddo con il tiro di Corrae Non va, c'è un fischio arbitrale perché c'è un cambio prima Andrea, sto perdendo la voce ma vale la pena Nella serie Scudetto, 3 a 2, andrà al paladretto a giocarsi il primo matchball Una partita tutta in salita e Bramos viene giustamente festeggiato Andrea, è questo il bello del basket, una partita a inseguire e a vincere Come dicevo, rimanato a pochissimi secondi alla fine è entrato con il fattore che ha sbagliato tanti tiri Ma che ha la freddezza invece di Raffaele che qui si è giocato ai tifoti Questa squadra magari non avrà... Grazie ancora e alla prossima